ciao pigeon dove stiamo andando non si nomina mai il circolo è un segreto qual è il segreto appunto ecco a voi travis madoc no non so per me io torno al campus a studiare posso questo è per te la tua presenza qui non so se mi fa bene ci vediamo ma poi chi era quel ragazzo pieno di tatuaggi o a istanza con lui è al secondo anno cioè quello va al college non sei il mio tipo io sono il tipo di tutti molto sexy quella è la mia preferita è troppo tardi per spegnerlo perché sei qui cerco di portarti a cena vengo a prenderti alle otto io ti spiezzo in due provaci è con lui che combatti questo sarebbe il tuo strano modo di ammettere che ti piaccio non mi piace riesce a mettermi addosso una sola mano non faccio sesso per un mese è una scommessa sì e se vinco io tu dovrai stare con me per un mese accetto confiescelo prepara le valigie pigeon oggi vieni a casa con me come potuto capitare non superare questa linea ok muraglio cinese wow cos'è non è una penna questo è sicuro tu incarni tutti i difetti del tuo genere saremo solo amici abby levati di mezzo amici ma senza benefit che cosa ti ho tirato fuori c'è così tanto di me che lui non sa sono innamorato pazzo di te sta zitto e baciami ciao abby abbracciami ciao piccolina non salutarla così trovo porno ciao a tutti ciao a tutti Grazie.